Grazie a tutti. 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 Grazie. e passo la parola al Ministro del Regno Unito, Mr. Tims. Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. 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 Nell'Unione Europea, è il nostro dovere lavorare a tutti i livelli per garantire la loro piena partecipazione nella società, con le stesse opportunità offerte agli altri cittadini. Dobbiamo impegnarci per la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite e della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite offre unico per promuovere la cooperazione globale su questo tema. Grazie a tutti. Essa identifica i settori per iniziative congiunte, stabilisce obiettivi concreti e orientamenti che sono ripresi nella carta di Solfaniano adottata oggi. Sono lieta che l'Unione Europea abbia potuto contribuire allo sviluppo di questa carta. Qui a Solfaniano abbiamo presentato la nostra legislazione e le nostre politiche nel settore dell'accessibilità, l'inclusione nel mondo del lavoro e la libertà di circolazione. La nuova Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio assicureranno alle persone con disabilità che si spostano in tutta l'Unione Europea accesso agli stessi benefici nell'utilizzo di determinati servizi e parcheggi. Abbiamo poi misure concreti e strumenti di orientamento e sostegno della partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Questo rimane un tema essenziale per garantire autonomia e dignità alle persone con disabilità. In questi due giorni abbiamo anche parlato di come rendere gli aiuti umanitari e la protezione civile accessibili e inclusivi. Questi scambi arricchiscono le nostre riflessioni sul futuro delle politiche europee in questo settore. Sono certa che la nostra cooperazione multilaterale rafforzerà la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità a livello globale. Come abbiamo detto in questi giorni, la diversità è un fatto, l'inclusione è una scelta. Scegliamo l'inclusione. Grazie. Grazie. Passo ora la parola al Ministro del Sud Africa, Mrs. Cicunga. Thank you very much, Minister Lokatelli. My name is Cindy Ciwe Cicunga. I'm a minister in the presidency responsible for women, youth and persons with disabilities in South Africa. First and foremost, South Africa really appreciates Honorable Minister Lokatelli for extending her hand and inviting non-G7 member states such as South Africa, Kenya, Tunisia to participate in the meeting on disability inclusion. It is clear from its preparation and execution all the way to the Sulphanano charter that has just been adopted today that the inclusion has been deeply embedded into every aspect of this meeting of the ministers of G7 member states. The thematic panels we participated in yesterday were instructive, informative, carefully and scientifically selected to deal with non-imaging trends in disability inclusion movement. We are taking away a number of lessons from this meeting. Artificial intelligence and emerging technologies we actually have learned that they are neither inherently good nor inherently bad. It is how we deploy them that matters the most. Care, compassion and inclusion must be at the centre and none and not an afterthought. We also have learned that language is power. It depends on how we frame our inclusion agenda which is just as important as its implementation. We also have learned a lot about issues related to climate change and how they affect persons with disabilities. We are drawing significant lessons from Italy's National Observatory on the conditions of persons with disabilities. Once we have adopted policies, it is important that we monitor their implementation closely. For us, the essence of this high-level G7 ministerial meeting that has adopted the charter is fundamentally about the institutionalisation and mainstreaming of the interests and full participation of persons living with disabilities in all areas where decisions are made and power is exercised. Finally, as Minister Lokatelli has indicated, South Africa, as it assumes the G20 precedence later this year, we will be establishing a G20 disability inclusion forum at G20 ministerial level. South Africa welcomes and supports the Solfenanok charter even if we are not a G27 member state. We thank and congratulate the government, the people of Italy, but in particular Minister Lokatelli for this exceptionally organised and successful meeting. We thank you. Merci. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Diciamo per concludere con due parole prima di lasciarvi la parola ma magari di lasciar liberi anche i colleghi. Voglio ringraziare il mondo delle associazioni italiano perché ieri ha partecipato al momento di giornata preparatoria quasi tutto l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi proprio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che da 15 anni è stata ratificata nel nostro Paese. A prendere la parola sono stati anche i due presidenti delle federazioni maggiormente rappresentativi, il presidente Pagano per la FANDA, il presidente Falabella per la FISH e ha preso la parola anche il coordinatore dell'osservatorio che è il professor Corti e io come ho detto ai miei colleghi proporrò all'osservatorio e proporrò al comitato tecnico scientifico di inserire un riferimento formale alla carta di Solfagnano nel prossimo piano d'azione sulla disabilità che è il piano che stiamo scrivendo e che verrà firmato dal presidente della Repubblica. In ultimo vi dico che come avete capito hanno contribuito in ogni aspetto specifico a rendere straordinari questi tre giorni tantissime associazioni. Siccome non ve le voglio leggere tutte ora, se voi avete piacere e la pazienza i miei uffici, il mio ufficio stampa, la dottoressa Santoriello, provvederà a far girare l'elenco perché mi sembra importante che tutti voi sappiate tutte le associazioni che hanno partecipato, i partner, quelli istituzionali, quelli che invece si sono dati da fare diciamo su tanti aspetti che ci hanno coinvolto. Una cosa su tutti per concludere e ricordare che dobbiamo valorizzare e credere nei talenti e nelle competenze di ogni persona e dare occasioni. A noi è stata data anche una grande occasione e l'abbiamo sfruttata e gestita al meglio. Io credo che ogni persona se è messa nelle condizioni di poter fare qualcosa la può realizzare. E volevo solo farvi vedere questo fular perché l'abbiamo donato ai ministri e anche ai partecipanti perché è il frutto del lavoro di tanti ragazzi con autismo. Qui ci sono state realizzate tante cose ci sono le opere d'arte c'erano il sale e il pepe sono state fatte tantissime veramente cose le potete vedere anche sul vostro territorio e io chiedo a tutti soprattutto alla stampa qualche volta di prendere in considerazione gli straordinari progetti le straordinarie opere che il nostro mondo del terzo settore le persone con disabilità le famiglie compiono sui nostri territori è vero che fa più notizia parlare di cose drammatiche bruttissime o di cose meravigliose però c'è qualcosa di straordinario in mezzo ci sono le persone che sono in grado con le loro competenze di fare davvero qualcosa di più per le nostre comunità e di rendere più forti i nostri paesi grazie applausi 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 c'è qualcuno lasciando liberi i miei colleghi nel senso che se voi avete qualche domanda io rispondo so che però applausi applausi applausi